Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Terra Mia. Alex sta riportando al concessionario di Beppi il trattore in prova. Arrivato al concessionario c'è anche Bastian ad attenderlo e adesso si parlerà di affari. Finalmente nel piazzale si discute su quali nuovi macchinari comprare per l'azienda di Alex. Allora, qua dovrebbe essere sinistra. Tutto sto traffico in sto paesino, ma dimmi te, uu. Andiamo, via. Dai caro Beppi che sto arrivando a portarti il trattore, eh. Un bel gasolio io lo farei a lui, che me ne frega. Ecco qua. Aspetta un po'. A Bastian è già arrivato. Vabbè, non volo qua. No, no, sono già dentro, guarda lì, sono già parlando qui. Andiamo a vedere. Signori, buon pomeriggio. Ciao Alex. Ciao. Eccoci qua. Eccoci qua. Vedete che sto mettendo da parte queste pratiche, devo mettere qua nel cassetto, perché ce li ho metto qua dove c'è la B, Burbero Bisbee. Ecco. Burbero Billi? Chi è Burbero Billi? Eeeh, sono statoso. Allora? Bene, bene, bene. No, no, no. Mi piace, mi piace. Bel mezzo, anche la rottante, bello. Indovino. E dove sono andato, secondo te? Ehm, sì. Ehm. Ehm? Ehm? Ehm, certo. Ehm, certo. No, Bastian mi ha detto, guarda Alex, dobbiamo andare sto pomeriggio a preparare un terreno per mettere il vignetto intensivo. quindi dovremmo passare la rottante, il rullo e quant'altro. Ho detto, ah, già che sono con la rottante vengo a trovarvi. Eh, le è piaciuta, è salito pure sopra. Ehm. Ehm. Te lo immagini Enrico su cose del genere? Ehm. Ecco. Ecco perché le passammo a portare il vino. Ehm. Vabbè. Vado cercando di comprarti. Ehm. Eh, sicuramente. Non so. Beppi. Niente. Ehm. Ti ricordi che aveva accennato con la questione dell'azienda che volevo prendere? Chi? Naturalmente l'azienda c'è. Ma senza mezzi l'azienda non può lavorare. E quello è vero Toso. Tu hai l'azienda, io hai i mezzi. Tu hai il portafoglio gonfio e Beppi è contento. Eh, gonfio, aspetta, stiamo calmi. Sei liberale. Stiamo calmi, stiamo calmi. Ehm. Più che altro, mi piacerebbe vedere un po' consultare un catalogo o qualcosa. Hai qualcosa? Da farmi vedere? Sì? Perché ti prendo in toppe. Tablet? Ehm. 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 Qua quanto abbia scritto? Dammi qua. Dove sei? No. Ok. Allora intanto dimmi cosa è improntata perché sapevo che quell'azienda era un po' dirocata quindi non so se le stadio funzionano. Ma è neanche dirocata no perché no è tutto nuovo, hanno fatto tutto nuovo. Ah. C'è pure una schiatore intera per il lettame. Cioè non... Allora non so più di modifiche. No, no, non ha fatto bella modifica. Allora. Ma non so se prendere il carro così o... Cattoso. A cosa vuoi partire tu? Allora sicuramente è un'azienda che è strutturata per l'allevamento di vacche da latte. Sì? E quindi io sono innamorato no? Di questo genere di allevamento. Ehm. Anche perché in zona ho visto che non ce n'è. Non ce n'era una ma... Eh vabbè l'unica forse era questa qui che ho rilevato io. Cioè ho preso io e adesso ho comprato. Poi non mi è stato detto perché è stata chiusa eccetera eccetera eccetera. Quindi diciamo che è stata un po' una cosa riservata. Ehm. Niente. Però in buonissime condizioni. Quello sì. Quello sì. E' già una cosa buona. L'unica cosa è che non ci sono mezzi. Perché sicuramente... Per gli ucili abili? Eh lo so. Però sai se c'era qualche mezzetto dentro mi sarebbe piaciuto. Poi... Vabbè se devo prendere nuovo, usato... Tanto quello... Qualcosa ci avrai no? Sì sì io ci ho tutto. Ok. Cosa vuoi partire da nuovo o usato? Vediamo un po' di usato cosa c'hai. Sì. Ehm. Da proporre. Ehm. Tu con quanti capi di mestiano vorresti partire? Oddio. Sì. Sì. Io... Partirei inizialmente con... Penso dai 25 ai 50. Ok. Perché se non ricordo male. In quella azienda aveva tre stalle. Sì. E c'è anche quella piccolina di vitilli. Esatto. Sì. A cui li dovrei spostare e quant'altro. Quindi che se girate il macchinario per... Vabbè un carrello o qualcosa. Piccolino per i vitilli. Sì 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 sì. Per sforzo dell'acqua. Penso che c'è anche il pulso in alto se non ricordo male. Mh mh. Mh mh. Mh. Un carrello di salvezza. Quante con 25? Tosto. E direi... Non questi per ora. Eh no. Anche se volendo potremmo anche prenderli. Potrei? Sì. Eh. Potresti. Ah no. Beh sì certo. Non è che... Ehm. 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 Se vuoi in offerta. Molto bella. E il tablet te lo faccio vedere dopo. Sì sì. Andiamo. 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 Per il momento... Aspettiamola. Quello Landini. Sì. Quello Landini potresti darlo a Enri. Poi se vuoi fare concorrenza al Burbero là. Vi compri... La raccoglione. Sì. Poi lo senti. Eh. Poi lo senti tu. Gli Landini servirebbe sì in azienda. Bello sì. E poi come parlare sopra tu. Allora. Come mezzi usati. Quanti massimo? Non c'hai... Sei a buona? No. Dipende da cosa è costruito. Dice quando mi fa offerto io. Ah ok ok. C'ho questi due qua. No no. Per il momento... Guarda. Sono proprio due. Sincero. Però se vuoi. Sincero. Guarda. A me già... Quello che mi hai fatto provare oggi potrebbe essere uno dei mezzi più importanti della mia azienda. Ok. Fatto. Ho venduto. No no. Che venduto. Stai calmo. Tanto mi devi far vedere cosa c'hai di usare. Ah no. Hai notato cosa... Hai notato cosa c'è di entrare in officina? Eh sì. No. Ho visto. Se vuoi. Se vuoi una cosittina piccolina, carina. Ah. Eh. Ti posso dare anche questo. Di quanto stiamo parlando? Di cv? Adesso ti dico. Dai è bella. È bella. Via. Via che ci schiaccia questo. La porta fuori. Allora lo vediamo. Ah che bello che è. Allora questo, caro il mio tozo. Ne ha 141. Si. Ok. Monta ruote BKT. Grandi. E il più volendo, visto che sei l'inizio, potresti farmi la modifica nel giro. Il caricatore frontale. Eh beh. Ehm. Sì. Non sarebbe male anche per trasporto balloni, per caricare balloni, eccetera. È utile. Ehm. Per fare una relazione mista, ho questi due beta redi dietro, che ti possono sempre servire, e di più non chi sai. Vabbè, oddio, uno lo spargipaglia. Eh. No vabbè, ma vorrei consultare un catalogo se c'è l'hai. Ma se ti accendi il tablet. Eh certo. Allora. Ci sono. Dove vanno alla sezione veicoli. Si. Vabbè, veicoli. Vediamo un attimo. Dovevo vedere trattori meri. I campi non sono enormi. No vabbè, però. Diciamo nella mia, nella mia tenuta. Nella mia tenuta... Nella mia tenuta... Nella mia tenuta... Secondo me sui 180 cavalli... Può stare. Poi, se decidi di vendermi il Massey... Non ho comprato. Non ho comprato niente, fino a quando non ho firmato. Ok. Vabbè, oddio. Ma tratti ancora Fiat Agri? Sì. Chi è il pazzo? Eh. È immanicato da... Come chi è il pazzo che li compra? Eh? Vuoi saperlo? Enrico già ci pensava... Ma è un 180? Cosa se ne fa un 180? Ma che ne so... Lo sai che è nostalgico? Eh, lo so. Le robe tecnologiche sono... Che fulminato. Allora... Niente, dai... Lo saprei. Ica... Che marca ti piace? Tu sei il marca ti piace? Ma John Deere... 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 perché lo vengono vantano ricci effettivamente non è male no un buon mezzo ma io un bel altro anche di pira il palmer no 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 sempre trovato bene con un fan di però non è molta scelta su sto catalogo è poca scelta e sto guardando ma c'è la serie 700 della fend 714 non è male anche 724 ascolta mi fai preventivo per il 724 vario fan con naturalmente allestito con gps le ruote come le vuoi le ruote mettiamo pneumatici larghi volendo anche in questo può montare l'aggancio frontale si ma non direi di no si? 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 dai ho 235 con peso senti è possibile montarli michelin? pneumatici larghi? e poi come zavorra dove ce li hai le zavorra? ok in attrezzi mettimi un'amx da 900 anzi ne prendo una da 600 e una da 900 2 2 2 2 pesi? servirebbe al contrattorino piccolo per il caromiscelatore posso dare questo bel che poi potrei attaccarlo comunque al posso dare anche questo bel giundino eh ah si? 50.000 maneggevole maneggevole passi dentro le stalle ma che dico quel giundirino lì piccolino ma quale questo qua che ci sta proponendo? eh ma che secondo me ma vabbè ci sta un bel mezzo le ore non ne ha tante no no ma ci sta ci sta certo certo ciao Beppi posso salire? beh vai ehm senti un attimo Beppi lavorazione terreno vediamo un attimo comunque l'herpice quella lì la prendo ok ok poi mi servirebbe una seminatrice e una piantatrice andiamo sulle seminatrici io andrei sulla mascar ok facciamo la mascar ehm il modello mi piace quello nello quello affinato come te limited si la limited fai la limited 40.000 hai tua ok quanto? 41.000 no che viene 4440 40.000 viene qua mi fai 41.000 so l'iva beh sì l'iva dai che ti ha qualche sconto te lo faccio eh dai poi vediamo eeeh come piantatrice non è molta scelta eeeh piantatrice sono pochi perchè qua i campi sono tutti in pendenza eeeh cercami qualcos'altro dai fammi sapere ok un simitri ti può andar bene sì 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 vabbè una kun sì kun vedi tu non ti serve neanche l'aggancio frontale sabatoio frontale no mi piacerebbe conservatoio frontale un sabatoio frontale ok vediamo un po' proponimi qualcosa vediamo eeeh eeeh rullo un sabatoio frontale rullo rullo c'è solo questi al momento sì vabbè però volendo c'è questo della tech magri sto guardando mediana 600 anche volendo puoi allestirla anche con il trasporto delle box si lo sto guardando e fa 6 metri eeeh no fai quello da 8 si si fai quello da 8 si fai quello tra in atto da il maxi rule ok mettimi dentro quello il trattamento della terra con mariaggiato di quali parli? io sono gli areggiatori perché c'è l'ermo da 4 metri il valentini ce l'hai? va bene metti dentro anche quello vangiatrici non mi può essere no no voi le oratrici poi veniamo più avanti più che altro non spargni fertilizzante lo vuoi prenderlo o lo vuoi da attaccare dietro no mettiamolo no facciamolo da attaccare ah sì no visto che c'hai l'amazon è l'amazon vai fammi un buon prezzo per quello poi valutiamo lo sai che l'amazon questo qua ti fa 10.000 litri non puoi mettere solo fertilizzante ah ok invece se vuoi dargli anche la calce e dovresti prendere un'altra o prendi il Bredal o se non il Cubotta 26.000 e puoi fare 6 calci che fertilizzano dai fai quello e poi magari prendi il 1 42 metri fai è anche esagerato no vabbè dai poi valutiamo questi dai valutiamo valutiamo dopo parli con cima questo che parte con le vacche eh parli con cima non sarebbe male il sac il sac tre assi non è grosso penso a eh oddio i campi cioè i campi li hai visti tu sì ma quelle quelle ne fanno come iniziamo sì no vabbè effettivamente se ci penso i campi non sono piccolini conviene sicuro lì ascolta mi fai un preventivo per il franzosi il tre assi naturalmente colorazione mettimela Massi Ferguson possiamo vedere anche insieme come mette la colorazione ma se Ferguson non me la metti Fend perché poi vediamo se troviamo qualcosa interessante da tacare questo volendo provare o la copertura in tela o aperto o ti posso far mettere il portellone ci sta poi per primo lo studio porto ok naturalmente mi ci metti poi caricatore frontale pala pala forche per i balloni pinza per i balloni tondi mi serve un'imballatrice se gli farei piena giù ne servirà anche tutto il resto ballatrice era molto semplice o la vuoi che già anche no che posso anche fasciare anche fasciare si guarda la Fend la Rotana potrebbe interessare ok come lamina metti me la nera una botta dell'acqua con l'estremità lo vuoi standard come convogliatore lo vuoi l'estremità lo vuoi standard quanto mi costa l'estimento completo quanto ma 2000 in più no mettilo mettilo dimmi Bastia no no stavo pensando alla dimensione delle balle ma tanto 150 va bene si si se le volevi fare da 180 devi prendere la Kun però a sto punto se vuoi prendere quella che ti avvolge anche tutto poi vabbè dai poi vediamo per i carrelli con calma poi intanto tanto scusa non mi puoi mandare il link del del sito qua se bisogno per iniziare per iniziare no vediamo dai vediamo un po tanto iniziamo a fare arrivare i trattori poi ok trattori e quelle poche attrezzature che ti ho chiesto più che altro un'altra cosa ti volevo chiedere riesci a procurarmi a noleggio per un breve termine mi servirebbe una metitrebia non mi interessa un'altra metitrebia grande l'importante è che sia una metitrebia che riesco a raccogliere perché mi hanno lasciato pure un campo di mais a granella quindi lo voglio raccogliere ormai è già pronto quindi nel giro di un paio di giorni mi servirebbe questa questa metitrebia a meno che non conosci tu un terzista qualcuno no 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 ho 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 una metitrebia che ti posso fare arrivare ok perfetto metitrebia naturalmente anche un carrello perché non saprei ma ben toso ascolta quindi questi due ti riporti adesso quali come quali ma sei il giugno adesso me li prepari bene e poi vengono li ritiro anche perché dobbiamo fare i documenti i passaggi e quant'altro mi stupisco di te caro baby perché? perché così mi stai già dando tutto sì stai iniziando a fidarti anche tu no che voglio nessuno allora che dici basta no è bello è bello sono già salito ho visto che anche poche ore dentro è tenuto bene sembra nuovo fai una cosa questo fai una cosa licenziati da eeeh stai buona che via io che si consigli che il burbero lo spaga subito va che gli prepara la doppietta lo fa saltare subito lo fa saltare Enrico Enrico è burbero ma dai è una brava persona una brava persona sì sì via cioè se vado via io lui dice dice ma quello piangere se vado via io da una parte piangere che dopo c'è da fare un sacco di robe no poi magari vediamo magari se hai bisogno una mano io sai che io ci sono sempre certo poi mi organizzo non è un problema certo certo però poi un domani vi farò conoscere i ragazzi che ci sono in America li facciamo venire qua se li fai venire qua ma sì ma certo proprio Beppi procurami quelle cose lì che ti ho detto mi fai un preventivo o me la giri via mail ok mi fai sapere i tempi di consegna soprattutto che sono la cosa più importante guarda secondo me vero due mesi almeno però la trebbia non la trebbia e si non la trebbia oltre facendo il carrello che si deve fare subito i trattori sono quanti i documenti c'è tutto belloso e proprio beh l'attrezzatura se tardi ad arrivare qualcosa ce lo può ne diffusi ma vabbè si e anche perché tipo fra credo si due mesi mi iniziano arrivare gli animali ok è che sei levato in un periodo un po' così perché un sacco di ordini in bando quindi non servono un bel po' di materiale quindi va bene l'importante è che c'è un po' di attrezzatura per iniziare sì l'importante è che c'è attrezzatura per iniziare poi piano piano acquisto e facciamo arrivare con calma però ricordati il caricatore per favore cioè quello spingi per farlo arrivare subito quello te lo faccio arrivare subito in teoria dovrei anche avere qualche due in magazzino quindi vediamo un po' quanti metti di altro che non abbiamo parlato vediamo cosa c'è in catalogo guarda c'ho per eh no mi devi fare il 603 603 603 o il sigerato è troppo grosso eh anche se hai quelli della mx ho visto però questi ci metteranno un po' ad arrivare immagino questo non mi ricordo se il 603 o il 643 dovrei averlo in deposito se no guarda anche quello della quick il q7m o il q6 o il q7 vedi tu in base a quello che hai o se no il suo originale ok va bene dai per il momento ti ringrazio ringrazio grazie a te c'è lo mio sempre un piacere farlo con te perfetto e tu bastiamo nella comanda non farmi arrabbiare quel bisbetti con la no no figurati lui fa arrabbiare me lo fa pedalare a questo altro giorno siamo passati qua davanti che ho detto va che bello quel landini piccolino ha cominciato a borbottare come fa di solito e io ci provo allungo anche la strada quando sono in giro con lui per fargli vedere le robe è proprio sì certo che faccio apposta perché non ha tanti di sud lui ne ha ne ha ma 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 li spenderebbe anche è che poi la tecnologia lui va in palla e si l'ho visto e lui vuole controllare tutto lui vuole controllare ma giustamente vuole controllare tutto e solo che siamo in un altro millennio caspita sì ma l'ho visto quando l'ho fatto salire sul mass e gli ho detto provalo no no lui pazzisce non vuole così anche gli dico provalo sposto lo vieni quando viene con la sede adesso l'ombretta ma niente non sale non li sposta gli piacciono ma non li sposta sai cosa dovresti fare se viene qua se qualcuno ti porta un fiat vecchio un 180 così quello lo fai contento perché comincia a girare vai 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 bepi procura guarda che mi ha chiesto un 180 e che rimanga fra me e te si sta sbizzarrendo che vuole prendere un telescopico non sa neanche usare la scala lui non so cosa per curare però se te lo dice dopo l'ombra è un conto se te lo dice prima è un altro il problema è se te lo dice dopo che si è bevuta una bottiglia di vino esatto perché voi perdite e poi la bottiglia finisce ma sei così lo faccio parlare poi quando è un po' brillo gli presento il conto gli firma si si gli prendi la mano e la firma qua vabbù io signori devo scappare perché ho un appuntamento non ci crederete mai ma ho un appuntamento buona intanto sono qua con la macchina amici dove portarti si si ho un appuntamento con quelli del terreno capito vabbè 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 allora ancora tante grazie aspetto la tua mail ok perfetto ti propongo tutti i tg va bene grazie beppi ciao beppi sempre numero uno ciao zio grazie mille ciao grande beppi si si forte ma cosa hai fatto in testa hai sbattuto la picco io si sempre c'è una cicatrice ah no è il taglio che ti ha fatto il parrucchiere ah e la tascia stare ma dimmi te vuoi essere alla moda te ti arrovina no no ma non è che penso io alla moda è proprio lui che parte gli dico fai così si e poi fai quello che vuole gli hai detto che non sei più ragazzi ero in giro che siamo un mentecatto andiamo andiamo se no faccio pure ritardo io oggi è che stavo pensando è quasi quasi cosa faccio un paio di modifiche alla macchina cosa devi fare e ho visto che sul catalogo ci sono dei cerchi in lega e un po' di robette serie va che c'è ancora un po' di rate la paga eh ma a me piace cambiare e fai bene cambia ma se lo trova eeeh te l'ho detto te l'ho detto sto scarzato ma non te lo chiederei mai ma ci mancherebbe ah si è già pronto si da sperando che arrivi sperando arrivi in ferro eh dopo ci organizziamo ci dimmelo perché c'è da solo no mi dai una mano come avanti indietro eh perché se no ho detto i toccan fare avanti indietro con la vabbè vediamo con la trebbia scarica fai lo so questa briga no perché questo è già pronto c'è questo è da raccogliare eh sì questo sì fara cellulia sinistra io ma eccola qua se vavo bastia io come sempre ti ringrazio sei gentilissimo e di te io se posso esserti d'aiuto ti faccio sapere quando arrivano i mezzi così magari mi viene amata a sfiderli qua mezzo come li finisci di preparare eh ci vuole un attimo eh sì intanto il mio numero ce l'hai mi chiami e io arrivo perfetto ok grazie ancora bastiano buona serata buona serata ciao 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 grazie ciao ciao gran bella persona bastiano veramente bravo bravo pezzo di pane grazie a tutti Grazie a tutti.